La Regione Toscana ha stanziato 6 milioni e mezzo di euro per sostenere gli studenti universitari titolari di borse di studio in precarie condizioni economiche. I contributi saranno destinati in larga parte a coloro che hanno dovuto affrontare il confinamento imposto dall'epidemia di coronavirus fuori sede. È stato così aumentato il contributo affitto di 150 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio. Anche chi è rimasto in quarantena presso una casa dello studente potrà ottenere un bonus di 250 euro, una tantum, per far fronte a eventuali spese accessorie. La delibera prevede un contributo anche per chi il 9 marzo, data l'inizio del confinamento, era in attesa di una residenza pubblica, si è visto negare la possibilità di tornare a casa propria e allo stesso tempo non ha potuto accedere a una casa dello studente o di ottenere il contributo affitto. A questi studenti verrà scontato di 150 euro il mini affitto da 250 e garantito un pasto quotidiano. Un contributo, una tantum, sarà destinato a pendolari e fuori sede che hanno subito una riduzione e una limitazione del servizio bensa. La Regione ha deciso di istituire anche un fondo rischi per tutti quegli studenti che dovessero vivere una situazione sanitaria di emergenza durante l'epidemia di covid-19. Oltre all'assistenza garantita dal servizio sanitario regionale, i ragazzi saranno così supportati in tutti i disagi che potenzialmente potranno subire dal ricovero in ospedale all'isolamento domiciliare.